Non c'è napoletano che non si sia mai fermato a guardarli inorridito almeno una volta dopo aver imboccato con l'auto lo svincolare nella della tangenziale. Un edificio in muratura tirato su nel 1998, subito sequestrato e mai terminato. Uno scheletro di cemento armato, o meglio un ecomostro come lo considera la procura di Napoli, che ha deciso di aprire un'inchiesta su presunti irregolarità nella richiesta di condono edilizio, che fino ad oggi non ha ancora ricevuto risposta, presentata dai proprietari dell'edificio nel 1994 in occasione della sanatoria varata all'epoca dal governo. Secondo la procura, la richiesta di condono potrebbe essere stata insabbiata per impedirne la demolizione. L'ipotesi investigativa spiegherebbe i motivi per cui quell'ecomostro è rimasto in via Cattaneo per tutti questi anni senza che nessuno intervenisse. Per ora non risulta nessuno iscritto nel registro degli indagati. La procura ha mosso i primi passi richiedendo al Comune di Napoli gli atti relativi all'istanza di condono rimasta in evasi fino ad oggi.